Capitolina sbaglia ancora in fase di disimpegno la Capitolina, non ne approfitta S, non già dall'altra parte Calabria sulla corsa di Orru, Orru entra in area, Orru supera il portiere, apre il piattone e fa 3 a 0, gran gol della Capitolina, S perde il pallone qui, 2 contro 1 della Capitolina, Orru c'è Bartocci con lui, Orru pallone di ritorno, Orru doppietta anche per lui è 5 a 1 della Capitolina